Buongiorno, è il 26 agosto, si torna finalmente a Milano, sono le 7 del mattino, sono appena svegliato, mi sparo un caffè e mi preparo a un traffico in teoria incredibile. C'è come una duretta e mezza fino a Milano, vediamo quanta gente troverò più strada. Cazzo, sono in giro da un mese con una valigia, abbastanza grande però con una valigia, appena di Milano devo lavare tutto con la cosanta. Senza caffè qui non si va da nessuna parte, quindi fai così. Anche se non sembra, sono molto contento di stare tornando a Milano. Perché sono un po' stanchino. Facciamo? Forza un po'. Ora è che non ho avuto il coraggio di cercare sul Google quanto ci vuole per Milano, anzi la cerco un attimo. Beh, 2 ore e 42 minuti, pensavo molto peggio. Cruciamo le dita, back to Milano. E sono le 10 e 10 del mattino e sono appena arrivato a Milano. Praticamente zero traffico, di lusso. Eccoci qua, casa dolci casa. Tutto chiuso, oppure è caduta una tenda. Le piante sono morte. Fantastico. Inizia anche il trasloco perché sono tornato, ho aperto tutto, come vedete ora c'è luce in casa, alleluia. Ma soprattutto tra due giorni vengo a montarmi la cucina dello studio. Non sarà ancora completamente finito, ma adesso siamo a settembre. Lo diamo per completo abbastanza per iniziare a creare contenuti. Come vi ho sempre detto, settembre per me è il vero inizio dell'anno. Non primo gennaio, ma il primo di settembre. Poi è anche il mio compleanno, il 4, quindi è sempre stato un momento un po' di rinizio dopo l'estate. Quindi traslochiamo. Iniziamo a spostare un po' di roba. Devo portare diverse cose. Toccherà chiamare un taxi. Sicuramente iniziamo con scheda audio, il Mac Mini, cuffie, hard disk. Insomma, una serie di cose. Continuo il trasloco nell'ufficio, ho portato le prime cosettine, però non posso farvi troppi spoiler perché giustamente tra qualche giorno uscirà il tour definitivo. E poi il tour definitivo non è perché sennò molto in progress questo studio lo finirò tra tre anni. Però un po' alla volta, un po' alla volta. Eccoci qua. Signore e signori, finalmente abbiamo la ripresa pronta. Sono tornato nello studio. Tra l'altro sto registrando questo video sabato 26 agosto. Spero vivamente che la pioggia che hanno messo in previsione per questi giorni, per questo weekend, non abbia fatto ulteriore danni perché, porca vacca, si nota anche dal video, il battiscopa si è tutto gonfiato, anche lì in basso, tutto devastato, ho avuto un millino di euro di danni. Il robottino, per fortuna, è ancora vivo. Gigio, non so se se lo ricorda, ma Gigio purtroppo, diciamo che era mezzo affogato, però si è anche asciugato da solo, è ripartito da solo, l'ho visto che andava per lo studio da solo, quindi si è anche riparato, ho avuto solo un po' di danni legati, appunto, all'acqua. Fortunatamente non ho messo il parquet in legno, perché se si avrebbe gonfiato tutto era dovuto buttare tutto, ma ho messo invece quest'altro materiale di cui non ricordo il nome, però come nuovo, fantastico. Ho anche messo in programma alcuni interventi per evitare che accadano di nuovo, solo che questi interventi non sono ancora stati fatti e questo weekend chiama forte temporale, speriamo non sia il nobifragio del mese scorso, prima di agosto, ecco. Per i più curiosi, metterò i zuccoletti, insomma il battiscopa, in materiale plastico, comunque sono belli, però almeno sono impermeabili, quindi non avranno problemi in eventualità di allagamento e l'altra cosa, metterò delle valvole, avendo pochi accessi in realtà alla rete idrica, ne ho tre per la precisione, esistono delle valvole che permettono al fluscio di andare solo in una direzione e non nell'altra e questo dovrebbe risolvere quasi tutti i miei problemi, poi se cade il nobifragio è peggiore degli ultimi 30 anni ed è successo il mese scorso, non è che si può fare molto, anzi c'è gente a cui è andata molto peggio di me, quindi non posso lamentarmi. Quindi, finita l'estate, siamo a settembre, so che la domanda che molti si pongono è quando torno a Minecraft Ita, ancora non lo so perché, perché la prima settimana di settembre sarò all'estero, però la postazione non è ancora completamente pronta, quindi non voglio dischiare di arrivare a andare il giorno prima di partire con la postazione pronta e riesco a registrare magari tre video quando invece sto via una settimana e quindi poi non è un inizio diciamo costante tutti i giorni alle 7 come invece dovrebbe essere. Di conseguenza ci sta che possa slittare alla seconda settimana di settembre il continuo di Minecraft Ita. Comunque non so voi ma io sono proprio carico, dopo l'estate mi sento rinvigorito, sono carico di fare 8.000 cose diverse, tra cui finire finalmente lo studio. Ora sono a fuoco, tra l'altro volevo farvi vedere, guarda lo faccio vedere in questo modo molto spartano ma che secondo me funziona. Dietro di me ho messo la tv, ora non sarà mai a fuoco però, metti a fuoco, metti a fuoco. Dietro di me c'è la tv, lasciate da tutti i cavi come vi dicevo lo studio è ancora da finire, però c'è la tv che ha l'inquadratura quindi posso vedere con precisione quando sono a fuoco e quando non sono a fuoco ed è una cosa fantastica, non vedevo l'ora di avere una roba del genere. Avevo comprato schermetti robe però per avere una tv così davanti alla videocamera devi per forza avere uno studio e io finalmente ce l'ho. Se vi sembra che l'inquadratura sia storta è probabile, probabile che non sia perfettamente in bolla ma devo setappare ancora alcune cose. Top! Va bene, settembre, buoni propositi, buoni propositi ma questo studio sicuramente sarà un ottimo modo anche per dividere lavoro da casa perché avendo sempre lavorato da casa era facile diciamo confondere le due cose invece avendo due spazi separati credo che possa aiutarmi, vi aggiornerò stava facendo magari sì, magari no, chi lo sa? Vedremo. C'è ancora un bel po' di eco qua dentro ma con gli ultimi arredi che dovrebbero portare a giorni dovrebbe sentirsi molto meglio e se non si sentirà meglio andrò a fare degli altri lavori sto spendendo una maria di soldi per questo studio poi vi farò un video dedicato in cui vi spiego nel dettaglio quanto ho speso in totale tra arredo e ristrutturazione quindi ristrutturazione ho già fatto un video però voglio fare proprio un totale completo e andrò a fare altri lavori per installare delle vele acustiche si chiamano vele audio del genere che sono dei patacconi che attacchia il soffitto e rimuovono quasi completamente l'eco e dovrebbe diciamo essere sufficiente per avere una qualità audio decente perlomeno decente non è che voglio ambire diventare che ne so però un minimo un minimo nel frattempo ho già spostato la mia postazione di editing qui nello studio quindi questo video lo monterò nello studio nuovo è il primo video che monto qua dentro e come vi dicevo sono gasato, sono gasato, settembre è un momento di eccitazione poi ora faccio 27 anni quindi insomma mi avvicino sempre di più ai 30 e leggevo, era su Instagram, era tipo a modi meme, non so quelle pagine che condividono fatti, studi e robe del genere c'era scritto che tipo il 40% delle persone tornate dalle vacanze vorrebbe licenziarsi ora sarà che io faccio l'imprenditore quindi è forse un'altra mentalità se vuoi rispetto all'essere subordinato a un capo però io quando torno a settembre sono davvero carico anzi già la seconda settimana che ero via super rilassato e avevo proprio voglia di tornare non tanto a Milano ma tornare a fare cose a creare contenuti e insomma chi più ne ha più ne metta anche altri progetti che poi vi racconterò stare facendo post scrittum quanto è brutta Milano senza persone allora a me Milano piace ma mi sono reso conto che Milano a me piace perché è piena di gente è una città viva con i suoi pro e con i suoi contro però ora che sono arrivato a Milano è il 26 agosto non c'è un'anima ci sono solo i vecchietti che vanno a fare la spesa nulla contro i vecchietti però porca vacca è di una tristezza inenarrabile e ha perso tutto il suo fascino ogni volta ogni anno ad agosto quando torno a casa qua a Milano è sempre così di temi se è così anche nelle nostre città però per me è abbastanza pesante cos'altro 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 ah niente siamo tornati siamo tornati 130 ho anche comprato una macchina nuova ma farò un video dedicato ovviamente anche a quello più di un video uno sicuramente sarà un video che indicherà indicherà qual è stato il mio processo mentale per scegliere una tipologia di macchina rispetto a un'altra e poi insomma ci sono dei contenuti legati a questa nuova auto che è un'auto davvero bella perlomeno a me piace ma sarà che un po' sono abbronzato sarà che con la luce sembro proprio color cappuccino però va bene non vedo neanche che questa temperatura sia più viva sicuramente l'avevo già detto qui del verde magari delle statuine delle robe qualche luce più colorata c'è ancora da fare tantissimo in questo studio però non voglio più lavorarci e poi mostrarvelo mi piacerebbe lavorarci mostrandolo ha senso? spero di sì e nulla io credo di aver dato tutti i aggiornamenti che dovevo dare sono andati a Milano lo studio in lavorazione tra due giorni mi mettono la cucina e portano le poltrone dovrebbero portare anche la mensolona che spero perché cambia completamente la faccia di tutto e poi mancheranno per l'appunto copertura dei tubi le luci che devo ancora ordinare una serie di cose però siamo già operativi postazione gaming manca qualcosina ma ce la facciamo Milano che è triste ve l'ho detta cioè triste quando non c'è nessuno basta questo è quanto signore e signori noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video il prossimo video che uscirà è un video in cui vi racconto del mio nuovo tatuaggio chi mi segue su instagram l'ha già visto tatuaggio impegnativo che ha una serie di significati comunque è stato particolarmente doloroso visto che ho ricevuto tantissime richieste ve lo mostro in un video dedicato anche perché mi fa piacere che ci sia bene o male una spiegazione di tutti i tatuaggi che ho sul corpo non perché vi debba interessare qualcosa però se vi interessa almeno la risposta c'è per questo video è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo contenuto qua sul canale ciao a tutti ciao a tutti